Il Silenzio degli Innocenti, del Silence of the Lambs, è un film del 1991 diretto da Jonathan Dam con Jodie Foster, Anthony Hopkins e Scott Glenn. Film simbolo di tutti i film sui serial killer con l'iconico e leggendario personaggio di Hannibal Lecter. Il film ebbe anche un sequel nel 2001, un prequel nel 2002 e venne tratto una serie tv intitolata Clarice. Hopkins riuscì ad aggiudicarsi il premio per migliore attore protagonista nonostante compaia in video soltanto 24 minuti e 52 secondi. Curiosità, ai due protagonisti vennero consegnati dei nastri registrati da alveri serial killer in cui si sentivano le loro voci e commenti mentre torturavano delle persone. Nessuno dei due li ha mai ascoltati. Lafi, l'American Film Institute, nell'elenco dei 100 film americani migliori di sempre l'ha posizionato al 74esimo posto.